La seconda 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 D, ovvero è rivolto a tutti coloro verso i quali si dice che venga rivolto un discorso Rifugio, cioè la ricerca di rifugio, preservazione e protezione Il Rab, cioè il Signore, ovvero colui che educa, fa crescere, educa i corpi e gli ammi E' una richiesta di rifugio nella Signoria di Allah e i confronto di tutta la creazione Malik il Naso Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik, Rab, Malik, Possessore Ilah il Naso E' Anna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilah il Naso, ovvero il Dio dell'intelligente delle persone, colui che viene adorato con amore e magnificenza Da cosa sta chiedendo rifugio? Dal sussurro del diavolo che viene sussurra e poi sbarisce Il Dio dell'ивалφio Naja Naja Il Dio che è rivolto a sussurra Il Dio che è stato sussurro Sussurro nella signoria Ma insomma Naja Questa è rivolto a sussurra E' un profond, solo dal genio Non per Allah subhanahu wa ta'am Alla'ana shayatei battekum in el ins Va battekum in el genio Potrebbe pensare qualcuno che i diavoli Sono solo... fanno solo parte dei geni Dal momento in mezzo in cui ci sono diavoli Sia tra i geni sia tra gli umani Beh... il shaytana è anche il shaytana al-Rajib addirittura i diavoli tra gli umani sono ben peggiori di diavoli tra i geni per quale motivo? perché il shaytana ha detto che quello ha detto che il shaytana al-Rajib ha detto che il shaytana al-Rajib ha detto che il shaytana al-Rajib perché il diavolo tra i geni nel momento in cui dice che il shaytana al-Rajib ha detto che il shaytana al-Rajib non si non si non si steve mentre i geni nel做ore delle persone si dice che il shaytana al-Rajib non si trova il mio Grazie a tutti.